E allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel quale oggi come vedete sono su Rocket League o anche la cuffia dell'Xbox One e sono insieme a Tralazzo Ciao a tutti quanti Eccolo qui, sono insieme a Tralazzo che è un mio compagno di Gilda, da un sacco di tempo compagno di Gilda, di clan, insomma in base al gioco si varia Questa qui che vedete è la mia macchina, non so neanche, cioè tipo l'ultima volta che l'ho aggiustata l'ho fatta così ma non l'ho avuto la possibilità di provarla Tralazzo mi inviti gentilmente al gruppo, ho perso l'invito di prima Cosa c'è da sapere su questo gioco? Sicuramente tutti quanti lo conoscete, è il giochino della macchinina che deve fare gol, cioè siamo in macchina e dobbiamo andare a fare gol dall'altra parte Quello che non sapete è che sia io che Tralazzo siamo negati Ma che macchinetta ti sei messo tu? Che cos'è? E' l'ultimo che ho sbloccato col clan Ma cos'è un poliziotto? Un bobby ti sei messo? Eh ho preso, ho trovato il cappello da poliziotto inglese Dai cominciate ad avviare così, il resto delle cose le spieghiamo direttamente mentre facciamo il gameplay E diciamo cosa c'è da sapere? Che né io né Tralazzo sappiamo giocare, cioè voi mi vedete lì livello 10 perché ho giocato una stagione E neanche sapevo cosa fosse una stagione, tipo cos'è una stagione? Perché io neanche di calcio sono nulla, quindi tipo ho chiesto ragazzi cos'è una stagione? Eh fai tante partite, ok? Ho messo la stagione a difficoltà minima proprio facilissimo E ho fatto un sacco di livelli perché poi è arrivato anche un amico Uh aspetta, ok, ok, dove siamo? Ok ci siamo, comincia, 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 com'era il turbo con la B? Ok Oddio ma quanti ne hai messi? Oddio tra l'altro quanti ne hai messi? Quanti siamo? Dove siamo? Oh vieni qui, vieni qui Partita pubblica Uh aspetta, ok, io non seguivo Hai messo partita pubblica? Ma quindi siamo io e tenso Oh cazzo! No ma siamo in tre giocatori Oh ho preso la palla Con tre giocatori contro tre Dai vai vai Dai non me l'aspetta Oh ce la puoi fare? No! No ma cavolo lo sviato dall'altro lato Cavolo è come vi dicevo appunto C'è il tiro ma non ce l'ho fatta Eh ma io tra il calcolo non riuscivo a capire neanche dove stavamo No, forse non posso andare in retromarcia mentre sono già in aria Tengo, tengo, si Vai 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 tra l'altro lato Boom! Vai vai che buona, vai che buona Vai che buona Vai che buona, vai che buona Vai che buona, vai che buona Mi ha sfuggito No! Ha fatto la rovesciata quello No, è stato presto, è stato presto Oddio come fanno a fare le rovesciate? Ma io poi mi sono messo la scia rosa perché pensavo di giocare con te, no? Non con altre persone che Cioè così sembro gay, non sono gay! Oh cacchio Ho rischiato, ho rischiato, ho rischiato, ho rischiato Boom! Vai vai tra lì, vai che sta andando nel bug No, ma ho bloccato il compagno No! Vai, dai, dai! Dai! Ci hanno fregata No, 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 dobbiamo recuperarla, dobbiamo recuperarla, è la mia scia rosa Oh cavolo No, no, no Ci hanno fatto, si dice gol, cioè, anche se siamo con le macchine si dice gol, oppure punto Quindi ragazzi ci hanno fatto gol Io penso fosse uno contro uno, io e te Invece no, guarda là 3, 2, 1 Allora, guardate la mia scia rosa La mia scia rosa della morte Ehi, trippi in aria Ma che caso? Ma che caso? Cosa? No, 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 vi ho detto Replay, replay, vi voglio dirlo No, vabbè, questo è culo, questo è culo forte Sì, culo, culo, culo forte Cioè, questo qui proprio, vabbè Vabbè, è culo A livelli esagitanti Uuuuh, bui, non è successo, niente, niente Non è successo, niente Allora, facciamo che io sto in un'importo Niente, il file online Ho dimenticato di dire le notifiche Viti, 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 viti Poppla, è bloccato Poppla Oh, cazzo Vi ho dispinto Oh, cavolo, che sto facendo Cosa, girati, macchina Viti, viti Non sovi, freddo una mano No, 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 mamma mia, ho rischiato Ho rischiato Oh, no, no, è un po' un casino Quello adesso Toglierò la palla da qui Vai, 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 vai BOO, mamma mia, che ho fatto Mamma mia, che ho fatto Mamma mia, mamma mia, oddio, 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 oddio no 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 vabbè vabbè comunque c'è questo gioco ragazzi prende un casino prende un casino perché non lo so cioè è tranquillo però un uccello diritto tra scia rosa della morte ma come ho fatto quello di arrivare prima di me dai no vabbè hacker hacker ma perché adesso fa anche la capiole la mia macchina che hanno fatto qualche patch si 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 no oh che quello 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 va no no non avevo turbo vai no forza 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 no ma perché l'altro si blocca ho preso il turbo no mi hai rubato il turbo è stato bellissimo me lo provo a distruggere guarda che ho fatto ci ho fatto pure la pirouette ttttttttttt e un 2 3 stella boom proprio col naso no ragazzi davvero fantastico questo gioco allora facciamo così io sto in difesa adesso no cazzo che cazzo no oddio no vabbè batta di culo batta di culo forte quella no no come ha fatto figlio di una mostarda mia 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 no no vai vai caccio l'offrontale vai caccio l'offrontale non mi piace oh no va mancata ho provato a prenderla ma non ci sono riuscito in succo ho scoperto porto l'interno parte ok ok cazzo no è la seconda volta che ho un po' so che ho dovuto il bambino oh no 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 se riesci a buttarla un po' centrale riscopto.it no mi sono passato sotto mi sono passato sotto ce l'avevo purtroppo non mi so calcolare ancora i tempi non hanno deviato buono non chiedono schieno schieno un grande per la rata l'allontanata proprio di petto c'è il petto di naso no tra l'uomo per te l'hai spinta dentro ahahah ahahah oh 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 che l'hai spinta guarda guarda lui l'aveva quasi mancata tu tranquillo ti do una mano ahahah ok ti apro un gol entro 37 scotti uuuuuh no peccato eh dubito ce la faremo si vabbè ma tu vuoi farti un altro con la 5 secondi guarda che no oh 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 schiantato proprio vai macello ah purtroppo abbiamo perso questa battaglia ma perchè non ce ne facciamo una io contro di te che ci divertiamo di più ok ci fai il blu io scelgo l'arancione ci sei? si uuuuuh ben nooo eh qui non è come con il bot che fai il primo gol ma lo sai che i cosini ci hanno fatto un sacco di gol il bot tipo io andavo loro te li avevano e mi andava dritta in porta a me oh oh ma dove fanno? vabbè vabbè asurdo no oh ma che ca here sto sto provando io sto facendo i giri in aria 1989 macchina prendo ok ok grande così tra il continuo con un uomo no 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 la domanda la parte sconti alzit un cazzo voglio così sto provando fornir fargo se non ascolto lupo buongiorno nooo spinta guarda 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 ii ii come non è entrata entra vai 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 nooo ma perchè imballa la mia occhia vabbè vabbè la colpisce poi per sbaglio aspetta ah l'hai colpita di nuovo non si era visto questo si io pensavo fosse scivolata in porta no no proprio accompagnata fino alla fine uuuuh finalmente la fortuna comincia a girare dalla mia parte se avessi pure un bot amico che facesse che fa qualcosa ma cosa cazzo fa? ah qual'era il tuo bot? io sono l'arancione uuuuh grandissimo il mio bot no 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 non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo te l'ha messa in porta lui l'ha colpita ahahah 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 autogol in questa maniera mamma mia ma che cazzo abbiamo fatto oh wendy che cazzo fai wendy wendy e dai non ho un po' di turbo poi tipo io mi sono accorto che quando sono molto concentrato bax che cazzo fai ma perchè il mio bot si mette in mezzo e vedatevi di mezzo tu e tu qua grande Thrall così mi piaci no 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 grazie Thrall tu te la spingi guarda tu proprio te la avvicini alla porta io prendevo la mira boom dritta nel ma in realtà l'ho pure mancata l'ho pure mancata ho avuto il culo che l'ho toccata per ultimo la palla Thrall cosa cazzo questo collo ho proprio sbagliato cosa cazzo ho sterzato nel momento sbagliato saltiamolo che è meglio saltiamolo che è meglio ho fatto meglio non vedere cosa combinato Thrall ma che cazzo sei vabbè ora sto facendo delle cavolate allora Thrall facciamo così fammi vedere ecco saltate troppo capriola hai fatto la capriola sulla palla no no l'ho toccata se poi rivedrai però non ho contrastato abbastanza madonna una traversa mamma mia il traversone grande Thrallazzo vai e io ti dicevo prima no poi tu lo vedrai nel video perché ora non puoi vederlo io ho il brutto vizio che quando mi concentro molto su un gioco dove ci sono le direzioni per esempio destra e sinistra a un certo punto tiro fuori la lingua perché sono così concentrato che tiro fuori la lingua e comincio a muoverla a destra e a sinistra in base a dove sto andando tipo se devo sterzare muovo la lingua a destra ma a sinistra no no cosa cazzo ha fatto cosa cazzo ha fatto che si no e poi calcola questo una volta quando giocavo a Gitariro lì io giocavo a difficoltà massima tipo e aspetta un attimo che ti do cazzo tra il grazie mi hai spintonato mi hai spintonato all'ultimo ma non pensare che sia finita così ben no l'ho presa male no 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 si 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 come si 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 no 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 sei un po' ma che cazzo mi hai fatto esplodere il compagno bom no 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 si si fallo 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 dove 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 no 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 non sono riuscito a frenare il tempo no vindi ti hai messo vinti davanti al cazzo ok ragazzi partito online l'ultima poi chiudiamo perché ci stiamo divertendo troppo e non vorrei mai diverterci troppo in un video perché altrimenti boh così a caso ah ok sono entrati i c bloc è con noi ma ma che che no mi è finito tutto come faccio finire il turbo mentre guidavo ok questa ma perché la mia macchina gira al contrario cioè la mia macchina è rotta città 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 si 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 guarda 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 mamma mia come no si sal oddio qui qualcuno dei nostri la spinta ho visto la spinta ho provato bloccarla ma noi siamo i blu gli arancioni arancioni io provo bloccarla l'altro gli rimbalza nel nuovo ciblo che cosa ho fatto dai continuiamo dopo lo vinciamo questo c bloc ok palla al centro salto inutile salto inutile l'ho fatto cerchiamo ma cosa cazzo la delorean qui ha seri problemi di attrito oh oh libero libero morta libero era libero questo mi spinge ci sono tutti quanti a litigarsi no 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 ci ho provato niente saltiamo il replay per favore si voglio saltarlo si guarda perchè l'hai visto tutta ci si mi ho provato a toglierla ma tu l'hai visto che ho fatto che sono andato per bloccarla retico spessa e non apple schistina nella commenta dovrebbe se è stato ancora costo peratt jongle Mr. Assess, non ci penso io, troppo Ah, mister Pum, pezzo di cac Così impari a prendertela con il trallazzo Troppo è diventata una guerra Adesso un autoscontro è diventato Rumble come cazzo Mamma mia, mi ha fatto esplodere uno Dai, mi ha fatto Ho provato, ma mi ha fatto ribalzar me Vai, 360 Eee Si, si, fate pure Mi ammazzo tutti Allora, pronto, adesso Voglio Gli autoscontri Vieni qui, Mr. Cometicam Boom Vai, trall, l'ho fatto esplodere Ora mi sto concentrando Oh, oh, oh No, non ci credo Non ci credo Cioè, azione unica Guarda, la prima gliel'ho alzata E poi tipo Angolino, tocchi Dentro Bene Questa mi è piaciuta Ma ora l'abbiamo uccidere Ottimo, ottimo Prendo il bonus Poi distrugga qualcuno Quello lì con lui, con lui che sta Con quello lì che sta Boom Boom Trall mi ha distrutto uno Trall mi distrugga un altro Ci trovo Boom Ma l'ho distrutto due tralli Questa partita è bellissima Boom Ma l'ho distrutto tutti e tre No, ho fatto un colpo Ho fatto un colpo No, no Però l'ho distrutto tutti e tre Guarda, guarda Va bene, va bene Guarda, guarda Boom Distrutto Poi vado lì E gli ha dato un passo in mezzo Vabbè Ho ucciso la squadra Un gol me lo regalo Boom Ragazzi Per questo video è tutto Io spero Vi siete divertiti insieme a noi Perché Davvero Trall mi sono divertito un sacco Tu? Sì Molto Moltissimo Porca La prossima partita Se vi è piaciuto Quest'ultimo pezzo In cui distruggevamo tutto Se l'avete considerato infame Ragazzi Alla fine avevamo perso Che dovevamo fare Però se vi è piaciuto Magari la prossima partita La possiamo fare soltanto A distruggere E ci metteremo in gruppi Da quattro Cioè quattro dei nostri A distruggere Quattro dei loro Proprio cattivi Quindi ragazzi Questo video giunge al termine Io spero vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un like Un commento E soprattutto Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Esatto Ragazzi Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video Dunque ragazzi Questo video giunge al termine Spero vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un like Un commento E soprattutto Se ancora non l'avete fatto Tra l'altro Tra l'altro Riccardo Facciamo faccia Ad iscrivervi al canale Tra l'altro Devi dire Ad iscrivervi al canale Ok Il canale